Allora, Sandro Teti, diciamo sempre vicino alle problematiche, ma anche e soprattutto anche a questi eventi importanti dell'Azerbagena e anche di tutti i paesi caucasici e della CSI, se vogliamo dire così. Questa serata è un bel evento culturale che sicuramente, come ha detto l'Ambasciatore, è un metodo e un mezzo per poter riunire un po' quelle che sono le fratture dei popoli, ma anche per veicolare dei messaggi che sono un po' più difficili magari da comprendere. Come lei ha visto questa serata e le sue impressioni? Sicuramente è un'iniziativa molto importante in quanto rispetto per esempio agli anni passati, quando giustamente l'Ambasciata di Azerbaijan aveva ricordato questo evento tragico, la strage di Kojali, è stata per la prima volta proposta in un modo diverso, in modo innovativo, in un modo che rende possibile la comprensione a un pubblico più ampio, in quanto precedentemente c'erano stati degli interventi di carattere accademico e quindi limitavano la fruizione a un gruppo ristretto di persone. Kojali è stato un massacro gravissimo, ma la cosa più grave è che sia completamente ignorato dall'opinione pubblica europea e segnatamente da quella italiana. Ora io credo che iniziative come questa possano contribuire a fare conoscere questo tragico evento e a fare sì che sia ricordato in tutta la sua gravità. Abbiamo altri esempi più vicino a noi come Srebrenica, questo eccidio che è giustamente più che ricordato e spero che comunque iniziative come questa, ma altre che potrebbero svilupparsi in futuro, sempre con un taglio non paludato, non accademico, possano rompere il muro di silenzio che si è creato e consolidato nel corso degli anni, anzi dei decenni, poiché questo evento risale ormai a 25 anni fa, così come a 25 anni fa risale ormai l'occupazione di una parte cospicua del territorio azerbaijano, un'occupazione che è universalmente condannata da diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, ma che purtroppo rimane ferma, rimane incancrenita ed è un elemento di destabilizzazione per l'intera area che, ricordiamolo, tocca paesi importanti come l'Iran, come la Turchia, come la Georgia, l'Armenia stessa ovviamente, l'Azerbaijan e la grande Russia, quindi è un problema che deve essere risolto e iniziative come questa sono sicuramente efficaci e importanti. Lei è un editore molto importante, poi specializzato, come dicevo prima, per quest'area particolare dell'ex Unione Sovietica, del Capo, del tutto. Cosa può fare ancora l'editoria e la comunicazione in generale per questi paesi e soprattutto in che momento ci troviamo? Cioè c'è ancora molto da divulgare per la conoscenza soprattutto di questi paesi, la conoscenza che poi ci aiuta anche a capire quest'area? Ma sicuramente c'è molto da fare e devo dire molto fate anche voi perché rendendo pubblici, registrando, filmando queste iniziative contribuite sicuramente in modo importante alla diffusione di informazioni che finora sono state celate. Per quanto riguarda me, io ho pubblicato diversi testi sull'Azerbaijan, sia di carattere divulgativo, sia testi più specifici di geopolitica che hanno abbracciato studiosi provenienti dalle principali università italiane. Adesso è in uscita un testo dedicato alla ricca e variegata storia della musica dell'Azerbaijan, scritto da un musicologo italiano che peraltro vive a Baku, che è sposato con una musicista locale e che ha insegnato per ben quattro anni presso l'Università Diplomatica di Baku, l'Università ADA. Quindi adesso attraverso questo testo chiaro, snello e interessantissimo, dà la possibilità al lettore italiano di accostarsi a questa storia che, segnalo la cosa che mi ha più colpito, presenta anche la prima opera lirica scritta da un autore musulmano, appunto che è un azerbaijano. Grazie, le ringrazio.